buongiorno e ben trovati dal tg di astra l'info mobilità un servizio in collaborazione con la regione lazio vediamo subito le principali notizie di oggi in apertura i cantieri a roma all'euro ancora fino alla 17 aprile continueranno le operazioni di disallestimento del circuito di formula e le chiusure al transito saranno in fascia oraria notturna 20 e 35 del mattino successivo ed interesseranno diverse vie della zona ci spostiamo a sabaudia dove sono iniziate le operazioni di manutenzione al ponte giovanni ventitresimo fino alla 17 aprile in fascia oraria 7 e 18 attivo senso unico alternato e passiamo al trasporto pubblico sono attive le linee s gestite da astral per conto della regione lazio per il servizio di potenziamento tpl scolastico nella regione le maggiori novità a roma la linea s15 con partenza da cilie capolinea piramide ostiense per gli utenti della ferrovia romalido la linea s03 effetto a capoline esterna piazza mancini con frequenza ogni 4 minuti bene era questa l'ultima notizia del tg di oggi continuate a seguirci sui nostri canali social twitter per il tempo reale facebook per maggiori approfondimenti appuntamento alla prossima edizione del tg di astral infomobilità un servizio in collaborazione con la regione lazio ciao